Meno male che ci siete voi ragazzi che mi tirate sul morale Allora, Juventus under 23, oggi c'era il primo turno della Coppa Italia di Serie C Allora, ovviamente non ho visto la partita perché stavo guardando la prima squadra Comunque, i ragazzi vanno in svantaggio dopo un minuto, grazie al gol di Grandi E vanno anzi in doppio svantaggio al sedicesimo con Marchesi che segna per la Pro Sesto Juventus under 23 sotto di 2 a 0 che rimonta Che rimonta però nei 120 minuti, non nei 90 Perché al 34esimo accorcia le distanze sersanti Su un cross di Anzolin, sto ovviamente leggendo perché non ho visto i gol Guardando la prima squadra E al 40esimo invece Kudrig pareggia e fa 2 a 2 2 a 2, il risultato che tiene fino al 90esimo A quel punto si va ai supplementari e nei supplementari al 107esimo Viene fischiato un calcio di rigore che viene battuto da Miretti E viene messo a segno appunto I ragazzi vanno sul 2 a 3 e la partita si conclude con questo risultato E quindi abbiamo passato il turno L'under 23 passa il turno Complimentoni ragazzi, veramente bravissimi Bravissimi per la rimonta Perché quando una squadra va sotto 2 a 0 dopo 16 minuti Magari alcune volte si dà per vinta Invece stavolta no Stavolta veramente bravi Avete recuperato Quindi bravi veramente Adesso non so chi prenderemo nel prossimo turno di Coppa Italia Comunque non importa Nel senso non importa Chiunque prenderemo ce la giocheremo Bravo ancora ragazzi Sia i 3 che hanno segnato Che hanno segnato tra l'altro il loro primo gol in under 23 Perché sono tutti o nuovi acquisti O provenienti dalla primavera E quindi è il loro primo gol ufficiale con la maglia della Juve Under 23 Perciò complimenti ragazzi Complimenti a tutta la squadra per averci creduto fino alla fine E niente Forza ragazzi, forza Juve Under 23 Ciao ragazzi